Matteo ultimo appuntamento ultimo appuntamento i nostri webinar ne abbiamo iniziato abbiamo iniziato il che era 16 gennaio 16 o 15 gennaio metà gennaio quindi ogni settimana abbiamo avuto due due webinar abbiamo fatto due appuntamenti abbiamo incontrato una marea di agenti di viaggio anche se in maniera virtuale però sì 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 infatti è stato bello perché comunque abbiamo avuto la possibilità di confrontarci di chiarire magari alcuni alcuni aspetti e poi è stato bello perché insomma c'è stato c'è stata una bella risposta sì 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 una grandissima risposta da parte di tutti gli agenti di viaggio chiaramente chiudiamo qui perché oggi in questa fase dell'anno inizia essere chiaramente un momento molto importante per le agenzie iniziano a lavorare tanto quindi siamo entrati nel vivo ormai della stagione della stagione ormai dai incrociamo le dita che questa volta non si fermi più ovviamente è quello che ci auguriamo e già che ci siamo ne approfitto Matteo per ringraziarti di avermi accompagnato in questa avventura e ringraziare come dici sempre tu chi sta al di là del vetro esatto giusto che senza di lui tutto ciò sarebbe stato vale quindi grazie Gianluca grazie Matteo grazie a te ci rivedremo poi a settembre ci rivediamo a settembre per me è stata una bellissima esperienza poterti accompagnare in questi mesi apprendere tanto di un mondo di un comparto di un settore che a me era sconosciuto allora io direi per rispetto di coloro che si sono collegati in tempo di iniziare poi andremo a salutare coloro che entreranno in corso in corso d'opera eh allora come stavamo dicendo appunto iniziamo questo webinar dicendo dicendovi comunicandovi chi siamo eh partendo da quello che è il nostro claim per questo venti ventidue vale a dire missione vacanza perché è diventata una missione mai come quest'anno una vera e propria missione allora andiamo Luigi a spiegare che realtà è quella della GB Viaggi GB Viaggi operatore relativamente giovane nel panorama nazionale nasce quasi quattro anni fa è un tour operator che poggia però eh le le basi poggia su sull'esperienza più che trentennale di questa catena di alberghi eh IT Hotels Group quindi c'è un know-how dietro molto importante si è deciso di produrre quindi turismo tramite questo grande ormai grande tour operator perché insomma ci ci attestiamo quest'anno su un fatturato eh possibile intorno ai venti ventidue milioni di euro quindi grandi numeri ci attendono per cui siamo molto fiduciosi e soprattutto inizio a ringraziare chi ci sta già dando fiducia detto questo eh GB Viaggi è un operatore che ha mh nel suo catalogo tutta una serie di strutture e nelle migliori eh medie turistiche italiane quindi centro sud eh e isole e vedremo tra un po' e soprattutto eh è un operatore che rivolge tramite i suoi club vedremo tra un po' quali sono la propria attenzione soprattutto al pubblico delle famiglie capiremo tra un po' il il motivo. Detto questo da come dicevi tu poc'anzi da quest'anno ci eh strutturiamo in maniera più decisa e più importante con questo ufficio ufficio commerciale un ufficio eh che oltre alla mia presenza vede vede la presenza di Raffaele e di Sara che sono le due eh persone che probabilmente avete già sentito nel corso di queste settimane nel corso di questi giorni eh quindi l'ufficio commerciale a totale disposizione delle agenzie di viaggio. Eh politica commerciale chiaramente ci vede orfano ormai del di quello che è stato l'early booking quindi tutto ciò che erano le promozioni dedicate a chi prenota in anticipo ovviamente sono decadute però ancora rimaniamo vivi con tutta una serie di eh di punti secondo me importanti che possono aiutare alla vendita in questa fase della della stagione. Innanzitutto i BB gratis come dicevo prima operatore GB viaggi tramite i suoi club che eh si predispone per raccogliere una clientela di famiglie e come vedete abbiamo i BB gratis. Cosa vuol dire? Vuol dire che il terzo letto bambino, bambino si fa per dire, da 3 a 16 anni. Bimbo adulto. Come li chiamo io? Eh fino a 16 anni è gratuito eh fino a fine luglio e addirittura da fine agosto fino a metà settembre data in cui poi si chiuderanno i nostri andranno in chiusura chiaramente le nostre strutture. Eh il quarto letto eh è sempre gratuito in alcuni casi anche il quinto letto perché alcune strutture possono contenere anche il quinto letto sono gratuiti eh nei periodi di spalla della stagione quindi in bassa stagione. Dopodiché hanno una scontistica che si aggira intorno al cinquanta per cento per cui sicuramente è un grande aiuto eh lo diamo già con questo primo assolutamente. Eh possibilità di pagare a rate da quarantanove euro e assistenza H24 lo vedremo dopo eh all'interno dell'area riservata. È ancora vivo perché lo abbiamo prorogato questo questo super sconto provvigionale del quindici per cento addirittura con over commission per prenotazioni entro il quattordici maggio. In realtà era un'operazione che sarebbe scaduta il trenta di aprile però viste le tante richieste abbiamo deciso di prorogarla per altri mh a questo punto eh una decina di decina di giorni esatto. Vediamo la possibilità chi ancora non l'abbia fatto di testare il nostro prodotto chi ha delle pratiche in pending può tranquillamente confermarle dopodiché chiaramente la la commissione sarà un pelino eh più bassa perché stiamo uscendo anche lì con un pricing molto molto aggressivo come piace dire a me Matteo come piace definirlo a me proprio per cercare di aiutare le famiglie a poter usufruire della propria vacanza durante quest'anno come vediamo diventa veramente duro soprattutto dal punto di vista finanziario. Assolutamente. Tra l'altro non abbiamo nessuna quota di gestione pratica su tutto l'anno quindi potete prenotare con noi e le uniche voci di costo che 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 avrete saranno quelle del soggiorno dei servizi supplementari che aggiungerete l'assicurazione facoltativa dove io però spingo a comprarla perché è un'assicurazione che vi consente di essere tutelati eh in caso di annullamento per causa di forza maggiore vedremo dopo meglio di quello di cui stiamo parlando e infine tessere club omaggio siamo ancora fuori per qualche altro giorno con questa eh promozione tessere club per adulti e per bambini omaggio nelle seguenti strutture quindi iniziamo a vedere un po' quello che è una parte del nostro prodotto per cui il villaggio Aquilia, Baidegigli, Le Rosette, Lidra, Lelios, Borgo dei Pescatori e Rocca Dorale. Quindi sicuramente questo prodotto fino al quattordici maggio sarà eh in tessera club omaggiata da GB Viaggi. E anche questo direi che è un plus importante considerando quanto poi può incidere la stessa tessera club appunto individualmente a livello poi familiare. Come restare connessi eh tra di noi per far sì che tutte le novità a GB Viaggi arrivino immediatamente all'interno delle vostre agenzie e nel caso specifico anche dei vostri smartphone. Intanto c'è il gruppo privato Facebook al quale vi invitiamo caldamente ad iscrivervi. Ci sono solo vostri colleghi quindi addetti ai lavori. Viene fatto appunto un controllo incrociato affinché poi non ci si ritrovi all'interno con chi non ha a che fare con queste con questo mestiere nello specifico. E poi il eh gruppo WhatsApp, il numero lo vedete in sovraimpressione, saremo noi a comunicare direttamente con voi, non saremo invasivi, non vi stalkerizzeremo, però tutte quelle che sono le novità, le locandine e i prezzi ovviamente vi verranno inviati immediatamente tramite eh WhatsApp e poi il gruppo Telegram che invia di definizione è un altro strumento sicuramente utile per tenerci in contatto. Eh diciamo questi sono tutte le situazioni che adesso andremo poi a vedere da un punto di vista pratico per voi proprio nell'area riservata entrando nel eh nel nostro portale www.gbviaggi.it. Adesso vi andiamo a spiegare quella che è una classificazione, una differenza mettiamola così che la GB Viaggi ha deciso di attuare per distinguere quelle che sono le strutture eh che ci sono ovviamente eh in fase di commercializzazione. Esatto. GB Club, GB Best e GB Travel. I figli, i cugini e i lontani parenti io spesso dico per contraddistinguerli perché Luigi questa distinzione. Allora avendo a catalogo più di 300 strutture chiaramente abbiamo suddiviso il nostro prodotto in tre grandi famiglie. In ordine di importanza abbiamo i club poi i best e i travel. I club sono le strutture all'interno delle quali eh noi eh abbiamo l'esclusiva territoriale di commercializzazione. Quindi siamo a casa nostra. Sono giochiamo totalmente a nostra disposizione per cui eh dopo vedremo insomma parleremo un po' meglio dei club eh siamo a casa per cui è il nostro prodotto di punta. Sono quattordici tra un po' li andremo a vedere. Affiancati eh affiancata la linea club c'è la linea best. Altrettanto è importante perché seppur non sono strutture di nostra totale gestione sono comunque strutture all'interno delle quali noi abbiamo un determinato numero di camere preacquistate. Quindi eh all'interno di questo piccolo allottment di di camere per l'appunto noi riusciamo a essere mh molto competitivi sul rapporto qualità prezzo. E infine abbiamo i travel. Travel eh sono tutti tutto il prodotto generalista tutta una serie di strutture però eh anticipo che su molti di essi purtroppo non possiamo retrocedere alla commissione perché è talmente bassa per noi che non riusciamo a darla all'agenzia. In ogni caso in area riservata dopo vi farò vedere quali sono le strutture per le quali avete la commissione e quali invece le visualizzerete al netto. Adesso andiamo a presentarvi appunto i nostri resort in particolare partendo dai GB Club iniziamo il nostro viaggio virtuale dalla bellissima Calabria. Il primo villaggio che vi presentiamo è l'Aquilia Resort a Badolato, Luigi. Badolato, Calabria che ci vede protagonisti con ben cinque strutture soprattutto nel golfo di Squillano ci siamo presenti con l'Aquilia Resort che è un quattro stelle, una struttura posizionata totalmente sul mare, 129 camere dislocate su questa bellissima pianura digradante verso questa bellissima spiaggia eh di sabbia, è una struttura eh da consigliare chiaramente a a famiglie ma anche a persone un po' più avanti con l'età perché ripeto essendo totalmente in piano e tutti i servizi sì sono molto fruibili per cui con una piacevole passeggerta si arriva subito in spiaggia e una struttura che ci sta dando tante soddisfazioni nel corso ci ha già dato tante soddisfazioni nel corso degli anni e come vedete doppia piscina dalle foto doppia piscina ma anche campi polivalenti per 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 le attività sportive dei più piccoli e anche dei più grandi. Sempre all'interno del del golfo di Squillace abbiamo questa struttura molto importante molto famosa anche nel mondo delle agenzie di viaggio il Porto Roca è un un tre stelle completamente arroccato a picco sul mare eh proprio sul golfo di Squillace una veduta incantevole un punto mare bellissimo l'unico neo se lo possiamo così definire potrebbe essere alla distanza dal mare che in linea d'aria sono novecento metri in realtà in linea stradale sono circa un chilometro e quattro un chilometro e mezzo ma i nostri ospiti saranno chiaramente eh accompagnati dal servizio Naretta chiaramente gratuito eh il punto mare è bellissimo e la veduta da questo villaggio è qualcosa di di pazzesco sì perché di fatto affacciandosi eh dalle dalle camere vedi l'antica scolacium quindi quello che è il parco eh archeologico e poi il lido del villaggio Porto Roca è situato nel punto mare più bello del golfo di Squillace quindi diciamo che l'attesa del piacere è la stessa il piacere diceva qualcuno in una nota pubblicità e quindi anche lo spostarsi magari col servizio Naretta a distanza di un chilometro e poi una lingua di di terra in rettilineo che dal villaggio porta direttamente al mare ne vale la pena perché poi si arriva veramente in acque cristalline con un panorama assolutamente mozzafiato così come per la struttura di Badolato siamo vicinissimi a soverato che è insomma oltre a essere bandiera blu è una delle location più attenzionate anche dai giovani per quanto riguarda la movida serale e poi ovviamente lo stiamo già vedendo lo stiamo già vedendo Tropea e siamo posizionati quindi sul tirreno in questo caso le Rosette Resort in realtà per la precisione siamo a Pargelia quindi tra i quattro e cinque chilometri dal borgo eh di Tropea eh anche in questo caso una struttura totalmente in piano però poggiata su un grande costone di roccia a picco sul mare cento cinquindici camere come vediamo buona parte di esse con una vista mare e dimenticavo di dire tra l'altro eh che sia alla Quilia che alle Rosette c'è possibilità anche di quinto letto quindi per chi avesse do questa spunta per chi avesse eh famiglie un po' più numerose chiaramente potrebbero essere due buone due buone scelte queste strutture ehm anche in questo caso c'è la possibilità di andare in spiaggia o tramite un piccolo sentiero oppure tramite servizio eh navetta è una struttura che chiaramente per posizione ehm predilige molto la vicinanza su 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 Tropea per cui eh sicuramente o tra l'altro ha ha sicuramente un ottimo rapporto qualità qualità prezzo. Andiamo avanti adesso andiamo invece a Isola di Capurizzuto vi presentiamo il Baia dei Gigli struttura da novantacinque camere quattrocento metri dal mare totalmente eh in piano una struttura che funziona molto bene già da diversi anni in commercializzazione per la GB viaggi tra l'altro prima e chiudiamo una parentesi la l'animazione che trovate all'interno dei nostri club è homemade esatto è animazione firmata GB viaggi quindi formazione dei dei ragazzi appunto da da parte del del tour operator che poi a seconda anche di quelle che sono le esigenze o le volontà dei direttori poi dei vari villaggi c'è chi preferisce magari un'animazione un po' più soft vengono eh geolocalizzati appunto eh dallo stesso tour operator in base a quelle che poi possono essere le esigenze della struttura stessa quindi questo giusto ricordarlo un ulteriore eh plus qui siamo Baia dei Gigli in realtà siamo vicino Isola Capurizzuto siamo a Capo Piccolo per la precisione tra l'altro un punto mare eccellente perché siamo in riserva marina protetta la più grande d'Italia la più grande d'Italia bravissimo eh la peculiarità di questo lembo di di terra sta nel fatto che eh il mare eh ha un fondale un fondale molto basso sì è un fondale molto basso e inizia a essere profondo a 200-250 metri dalla riva quindi sicuramente è una struttura da consigliare anche a bambini piccoli eh perché chiaramente i bimbi possono balnearsi in tutta tranquillità andiamo avanti adesso vi presentiamo un agrumeto un agrumeto sul mare sì il San Ferdinando villaggio siamo a San Ferdinando scusatemi le dune blu eh una piccolissima struttura 33 camere direttamente sul mare come vedete dalle foto perché praticamente la struttura è divisa dalla spiaggia dalla propria piscina quindi eh è sul mare e la caratteristica principale è costruita all'interno di un grandissimo agrumeto quindi veramente particolare per una clientela che cerca un un tipo di approccio alla vacanza un po' più soft un po' più tranquilla poche camere quindi poca cacciara poca gente e sicuramente da qua si può godere anche di tante escursioni fruibili proprio per quel quel territorio siamo in provincia di Reggio Calabria quindi facilità di spostamenti un po' su tutto quel quel territorio andiamo avanti andiamo avanti adesso passiamo sulla linea eh best quindi la linea di prodotto che non controlliamo noi ma all'interno della quale abbiamo un bel determinato numero di di camere in questo caso siamo a a Roseto Capospulico il villaggio Capospulico è un ottimo quattro stelle anche in questo caso è un bel eh una struttura posizionata su un costone di roccia picco sul mare con una veduta incantevole ricordiamo che Roseto Capospulico ogni anno è premiata per la sua bandiera blu quindi un mare bellissimo e come si vede dalle foto spiaggia di Ciottoli lido privato e servizio la vetta gratuito per per gli ospiti. Andiamo avanti adesso vi presentiamo il Dolomiti sul mare a Briatico quindi torniamo vicinissimi a Tropea in questo caso la differenza se vogliamo con le rosette è che questa struttura entrambe vicine a Tropea questa è direttamente sul mare come vedete dalla eh dalla foto in alto e quindi ha il vantaggio di essere eh letteralmente proprio sul mare noi abbiamo indicato duecento metri di eh distanza sabbia fine in questo caso. Sabbia fine con spiaggia di colore chiaro e anche qui il plus vero è la vicinanza sostanzialmente a Tropea vista diciotto diciamo nove chilometri circa però è una struttura che funziona molto bene un ottimo quattro stelle molto conosciuta anche nel mondo delle 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 agenzie. Siamo siamo a Sibari Nature Village è una struttura un tre stelle molto particolare perché è stato costruito e realizzato all'interno di questa pineta direttamente sul mare siamo sulla marina di Sibari è una struttura totalmente in piano è una struttura dall'ottimo rapporto qualità prezzo non molto grande perché parliamo di 80 camera e ripeto sul mare perché la pineta è direttamente sul mare. Questa è una struttura veramente eh green è una struttura green sì 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 il decennio diciamo così eh in cui bisogna darsi da fare affinché si possa puntare finalmente su un'area più pulita e tutti i servizi annessi poi devono ovviamente essere eco friendly in questo caso siamo proprio già all'interno eh di una macchia verde di un polmone verde come avete visto finora e continueremo a farvelo vedere tutte le strutture sono posizionate in maniera strategica quindi o vicino a bandiere blu a mare cristallino addirittura all'interno di veri e propri parchi nazionali tra pochissimo ve ne faremo vedere degli altri intanto dalla Calabria vi portiamo in Sicilia 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 ha già questa foto in vita a nozze esatto ci vede protagonisti con cinque strutture e partiamo con l'hotel La Playa un tre stelle superior come si vede dalle foto una struttura posizionata direttamente sul mare piscina adulti piscina bimbi totalmente ristrutturata al suo interno quindi tutte le camere sono completamente nuove eh sia sulle murature che sui mobili sugli arredi 70 camere vicinissimo a eh Milazzo si porto di partenza strategico si porto di partenza per le escursioni eh dei dei battelli per le isole e oli è una struttura che funziona benissimo tant'è che da già su qualche settimana siamo sold out eh l'ultima di giugno e la prima di luglio la struttura è già già piena le altre stanno si stanno riempiendo quindi una struttura che funziona veramente bene sta andando come un treno eh struttura a new entry invece nel panorama della della GB il nostro club Calampiso Resort contingente di camere importante per noi 257 camere mediamente noi prendiamo strutture più piccole come come avete avrete potuto capire tra le 90 e le 120 unità abitative per noi sono l'ideale però abbiamo voluto fare uno sforzo per il Calampiso perché è posizionato a San Vitolo Capo in piena riserva dello Zingaro un punto mare eccellente eh su questa appoggiato su questa roccia eh sul mare con con questo alternarsi di piccole calette di spiaggia di sabbia e di roccia eh una struttura che ha nel punto mare chiaramente il suo punto di forza poi strutturalmente è un ex residence nasce come multiproprietà quindi è un piccolo borgo arroccato su questo grande postone di roccia piccolo tanto piccolo perché poi 257 camere grandi tra l'altro camere grandi monolocali e bilocali che possono arrivare a contenere addirittura fino a otto posti letto quindi per gruppi di amici o famiglie numerose sicuramente il Calampiso Resort vista la vicinanza anche a San Vitolo Capo potrebbe essere la scelta giusta il il resort giusto adesso vi portiamo a Notomarina quindi andiamo nella capitale del barocco Notomarina due strutture in Val di Noto il primo è l'Elios quindi eh 133 camere come si vede anche in questo caso dalle foto direttamente sul mare altra struttura che eh soprattutto i siciliani apprezzano molto abbiamo riscontrato dei picchi di vendita nelle ultime due settimane importanti eh perché il punto mare è davvero davvero bello ottimo rapporto qualità prezzo 133 camere dalle foto insomma si vede benissimo il tipo di spiaggia che si vai ad incontrare mega spiagione quasi quasi caraibico eh a questo prodotto affianchiamo il borgorio Favara siamo ad Ispica quindi per la precisione marina di Ispica 120 camere a 350 metri di distanza dal mare struttura che nasce come residence qualche anno fa e in realtà poi viene trasformato dalla proprietà inserendo la ristorazione il bar in piscina all'interno della della struttura e quindi diventa villaggio diventa GB GB Club da quest'anno e che dire ogni unità abitativa è un bilocale quindi massimo comfort massima comodità e possiamo ospitare fino a quattro posti letto comodissimi e volendo anche quattro posti letto più magari una pulletta aggiunta perché le camere sono veramente grandi punto mare bello e poi fra l'altro geolocalizzazione eccellente sì perché da lì insomma tra Noto in questo caso Noto Marina Ispica c'è la possibilità poi di spostarsi di sbizzarrirsi quasi nei percorsi turistici da andare a disegnare se vogliamo per oltre ovviamente alla giornata da dedicare a questo mare stupendo e incantevole la cultura la storia è praticamente in Val di Noto uno dei sette patrimoni UNESCO per quanto riguarda la Sicilia posti che fra l'altro aggiungo sono diventati ancora più famosi grazie al commissario Montalbano chi non ha visto almeno una puntata del commissario Montalbano una serie di enorme successo non solo in Italia ma anche all'estero a livello internazionale questo ha permesso grazie appunto alle tantissime scene in cui venivano mostrate le spiagge le location a far sì che tantissimi turisti dall'estero decidessero di andare a prenotare in Sicilia per immergersi anche loro nelle acque in cui il commissario Montalbano tutte le mattine faceva il bagno tra cicli in questo caso dove sono state girate la stragrande maggioranza delle scene noto e ispica c'è veramente da divertirsi alla grande dalla Sicilia adesso vi portiamo nell'altra un piccolo salto un salto verso Nord andiamo in Sardegna sì è il primo villaggio che vi andiamo a presentare un GB Club è il villaggio Rocca Dorada Luigi siamo a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari esatto Santa Margherita di Pula 100 camere sul mare 750 metri la struttura è collegata tramite questo sentiero praticamente privato in questa bellissima spiaggia di Pula struttura che quest'anno ha avuto un'importante ristrutturazione dei suoi interni anche dei suoi esterni quindi troviamo delle camere completamente rinnovate tra l'altro proprio nei giorni scorsi tramite il collegamento che abbiamo avuto con il direttore sì con Gianpaolo Versaci ci ha mostrato appunto in via di definizione il restyling come appunto stavamo dicendo della della struttura sono è stata rifatta sia la facciata esterna quindi quella che a primo impatto poi vedono noi i clienti che arrivano nel nel resort ma sono stati cambiati tutti i condizionatori sono stati cambiati tutti i televisori quindi un investimento importante da parte della Rocca Dorada della sua proprietà e della eh GP Viaggi affinché questo villaggio in un certo senso anche in vista della prossima eh stagione duemilaventitré innalzi un po' il suo target ecco mettiamola così essendo ubicato e in mezzo a delle strutture molto molto importanti e conosciute a livello mondiale e quindi si sta provando a fare questo switch se vogliamo sempre ovviamente tenendo le famiglie come eh target eh principale. Eh Rocca Dorada raggiungibile e prenotabile tramite i nostri sistemi come vedremo tra un po' eh anche eh pacchettizzato nel senso su gbviaggi.it in area riservata potrete potrete confermare il solo soggiorno oppure il soggiorno più trasporto. In questo caso Cagliari per quello che ci riguarda eh ci vede collegati con la terraferma tramite una serie di allotment su sulle partenze da Napoli e e da Civitavecchia chiaramente sul sito dopo eh vi illustrerò eh come eventualmente preventivare un pacchetto del genere. Eh passiamo adesso a tempo pausania siamo al villaggio Borgo dei dei Pescatori struttura da 88 camere dall'ottimo rapporto eh qualità prezzo eh una struttura abbastanza conosciuta su una location eh particolare perché come vedete è una struttura all'interno di questo bellissimo eh paese con vari lembi di spiagge da poter andare a a visitare. Borgo dei Pescatori collegato con eh Livorno eh e Civitavecchia quindi il passaggio nave eh lo offriamo eh alla volta di Olbia e chiudiamo la carrellata sulla Sardegna con il villaggio La Plage. In questo caso siamo a Marina di Sorso quindi ci avviciniamo sempre di più verso il nord della della Sardegna. Trecento camere direttamente sul mare come si vede dalla foto al centro eh di questa di questa slide struttura che ci sta dando degli ottimi risultati già da 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 un po' di tempo eh proprio vista la anche la location della della stessa e la Plage viene collegata con i servizi eh navali da eh da Civitavecchia e da Savona alla volta di eh Porto Porto Torres. Questa è la Plage tra l'altro Parco Nazionale della Sinara eh a testimonianza insomma anche della di quello che dicevamo prima dell'ubicazione strategica delle strutture selezionate dalla GB Viaggi così come quella che vi mostriamo adesso andando in campagna Cilento Parco Nazionale del Cilento a Casal Velino vi proponiamo e vi presentiamo l'hotel Ivra. Settantatré camere come si vede dalla foto in basso a destra completamente arroccato su questo costone di roccia immerso nel verde a picco sul mare su questa piccola spiaggia eh di di sassi eh di piccoli ciotolini che comunque consentono la la balneazione ma in ogni caso è previsto un pontile proprio per aiutare chi magari ha un po' più di difficoltà e struttura dall'ottimo rapporto qualità prezzo la fa da padrone chiaramente la geolocalizzazione perché come diceva prima Matteo siamo in pieno eh parco eh tant'è che quest'anno noi abbiamo avuto tante richieste stiamo avendo tante richieste da parte di tanti gruppi di eh trekking anziché di archeologi proprio l'altro giorno abbiamo con l'agenzia di viaggi definito confermato un gruppo di archeologi verranno ospiti presso la nostra struttura a metà giugno e quindi una struttura che si presta moltissimo a questa tipologia di di vacanzieri. C'è Serafina che forse vorrebbe vuole fare una domanda non so vedo una mano alzata quindi Serafina se hai eh necessità di di fare una domanda o insomma una tua considerazione ovviamente la puoi fare in in qualsiasi in qualsiasi momento eh fra l'altro a proposito di trekking leggevo una classifica che è uscita proprio oggi a livello mondiale su quali sono i paesi eh che portano più turisti legati appunto a queste esperienze no di sport e vacanza primo posto per la Croazia eh l'Italia è al quattordicesimo posto quindi è dentro la top venti eh c'è tanta strada da fare credo che questo sia un segnale però di una nazione che ha capito quante potenzialità anche su questo ha su questo eh servizio in più da poter da poter offrire servizi diversi invece in questo caso sì eh per quanto riguarda ovviamente il junior village a Ischia siamo la patria dell'eterno la patria dell'eterno è una struttura per noi un best quindi abbiamo un determinato numero di camera all'interno di questa struttura che ne ha in realtà trenta direttamente sul mare ma il vero plus come si vede dalle foto è la talassoterapia e il centro benessere presente in questa in questa struttura quindi la nostra presenza su Ischia strategica sembra che stia stia ripartendo anche il eh il mercato per questa tipologia di di nicchia per questa tipologia di segmento eh quindi siamo contenti di essere in eh essere presenti con questo tipo di prodotto così come siamo molto contenti anche della della struttura eh che come vedremo nella prossima slide a questa chicca no eh partiamo dal presupposto che siamo a Doppi vicino Pescassero e quindi quindi in pieno parco nazionale dell'Abruzzo cento anni di storia cento anni di storia una struttura che ha questa particolarità chiaramente la la piscina presente insomma non tutte le strutture in montagna eh hanno questa fortuna per cui consiglio a chiunque possa ami la montagna di 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 inviarci insomma quanti più clienti possibili perché ha un ottimo rapporto qualità prezzo eh classico albergo tre stelle montano tre 80 camere e dotato di ogni comfort al suo interno però voglio dire il comfort in realtà è quello che sta fuori è quello che c'è fuori sì 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 assolutamente perché qui c'è la possibilità di immergersi nella natura incontaminata direi grazie a un lavoro straordinario fatto da chi gestisce il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise quindi per capire quanto è grande e poi dopo una giornata in giro che non te lo fai un bel tuffo in piscina prima di dedicarti all'altra attività tipica delle vacanze che è ovviamente quella che si compie a tavola e lì insomma ci si sfida anche con un certo successo diciamo così non solo montagna non solo di un parco in Abruzzo ma anche anche mare dopodiché rispondiamo a eh a Serafine se non ricordo male no? A Roberto scusami che ci ha fatto una domanda allora eh terminiamo questa carrellata sull'Abruzzo con l'hotel Honda un altro besta all'interno abbiamo un bel numero di camere come vedete è una struttura posizionata direttamente sul mare e siamo a Silvi Marina una delle località marine più importanti dell'Abruzzo è un tre stelle quindi un ottimo rapporto qualità prezzo per cui vendete l'hotel Honda assolutamente non è una domanda è una indicazione che la regia ha dato a a coloro che stanno seguendo il il webinar se vogliono fare delle domande ovviamente le possono fare benissimo digitando digitandole in chat adesso è rimasta la Puglia la Puglia la Puglia partiamo e andiamo a Gargano in realtà Gargano Matteo perché noi siamo geolocalizzati con tante strutture sul sul Gargano e che quest'anno sta andando tantissimo sta andando fortissimo tra l'altro leggevo ieri un approfondimento eh sul trend anche di questo periodo tra i ponti le vacanze pasquali i ponti che ci sono che ci sono stati proprio la zona del Gargano in particolare di Este si è confermata quella con più visitatori di tutta la la Puglia che è già stata la regione numero uno per il duemilaventuno eh in in merito appunto alle alle presenze la zona del Gargano è quella più battuta più ricercata appunto come stavi stavi dicendo tu tant'è che appunto la GB Viaggi ha investito ha investito parecchio purtroppo non siamo riusciti quest'anno a geolocalizzare un club ma abbiamo tante camere in tutta questa sequenza di strutture che vi mostrerò il Paglianza Paradiso in basso a sinistra vedete la foto completamente immerso eh nel verde e direttamente su questa bellissima spiaggia di di Peschici a seguire sempre a Peschici abbiamo il club Baia di Paradiso eh un'altra struttura direttamente sul mare parliamo sempre in questo caso di un tre stelle proseguendo abbiamo il Rodi Garganico il Santa Barbara anche in questo caso come si può vedere dalle foto mare doppia struttura sì doppio edificio ma direttamente sul mare su questa bellissima spiaggia di Rodi eh Garganico e chiudiamo la carrellata con il club Turing eh un altro tre stelle più piccolino 43 camere eh un pochino più distante dal mare siamo a 300 metri eh però come vedete abbiamo preso un prodotto che sicuramente sul rapporto qualità prezzo potrà aiutare molto eh una una clientela non alto spendente ci spostiamo in Salento in questo caso vicino Lecce andiamo a Castro vi presentiamo una piccola bomboniera sì il Lamannas Lamannas è una struttura piccolina 22 due camere in questo caso pur essendo un best abbiamo preso tutte le camere a disposizione è una struttura che ci piace moltissimo completamente riaffrescata ecco passatevi il termine durante l'ultimo anno quindi si presenta questa bellissima struttura in total white direttamente sul mare sulla spiaggia di Castro in realtà la spiaggia è è formata da queste enorme costone di roccia calcarea tipica della della zona però è una struttura che ci sta dando ottime eh soddisfazioni perché come si vede dalle foto si trova un ambiente nuovo fresco giovanile moderno nei mobili degli arredi e ha una chicca Matteo nella sua piscina ha la piscina di acqua salata sul tetto della dell'albergo quindi direi se uno non può andare al mare perché la giornata magari è un po' ventosa oppure la sera troppo fredda si immagina la piscina e si può godere eh dall'alto un panorama assolutamente tra l'altro Castro è posto proprio geolocalizzato tra Ostuni e Santa Maria di Leo che è al centro del Salento per cui da là si ci riesce a spostare con estrema facilità. Restando nel Salento l'altra struttura dove abbiamo un buon numero di camere l'Euro Garden Village una struttura molto conosciuta seppur le camere sono pochine sono 40 camere è una struttura che si vende molto bene anche vista la sua eh vicinanza al mare e poi è localizzata a San Foco una delle località più belle del del Salento. Eh rimane la Basilicata dove siamo presenti con questa struttura che vi presentiamo ora. Siamo al Metaclub Family Village una struttura da 110 camere eh molto raccolta perché in realtà ha questo grande edificio con piscina annessa un pelino distante dal mare perché siamo a circa un chilometro e mezzo ma anche in questo caso eh ne vale la pena per due motivi. Uno perché comunque abbiamo il servizio per i nostri ospiti completamente gratuito. Due perché comunque va su questa bellissima spiaggia di sabbia fine su un punto mare veramente carino. E tre aggiungerei anche tre la vicinanza a Matera. Comunque c'è la possibilità di di fare un po' di escursione nell'entroterra eh Lucano e soprattutto visitare questa bellissima città e tutto ciò che 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 circonda. Che è stata votata dagli utenti di TripAdvisor la città più accogliente eh in questo caso d'Italia si parlava d'Italia quindi eh ma insomma Matera per chi non non l'ha vista merita assolutamente. Esatto. Un blitz. Un weekend. Un weekend va assolutamente fatto. Salutiamo Alberto anche che si è unito al al gruppo di questo di questo webinar. Ciao Alberto buon pomeriggio. Chiudiamo la eh carrellata tra club e best con una chicca vero Luigi? Una piccola chicca un piccolo spoileriamo un po' qualche notizia un anticipo sì 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 allora eh in realtà eh GB Viaggi nasce come operatore Maritalia definito Maritalia o vendiamo abbiamo venduto fino ad oggi vendiamo Maritalia però da quest'anno c'è lo switch da quest'anno si parte con il medio e lungo raggio quindi iniziamo ad inserire prodotto estero lo facciamo partendo con il Queen Charm Beach Resort con voli che collegheranno l'Italia all'Egitto in questo caso quindi è Charm & Shake voli da Napoli Roma e Bari. Siamo in una fase di caricamento del del prodotto quindi eh non vi affrettate ad andare sul sito perché ancora non trovate la totalità del prodotto però vi volevo dare questo anticipo perché perché il Queen Charm so che è molto conosciuto nelle agenzie di viaggio in quanto è l'ex Vera Club. Quindi quella struttura noi abbiamo preso l'area beach quindi l'area più vicina all'area. E questo dunque è una chicca un anticipo di quello che sarà a breve a breve termine si può rivedere la registrazione Alberto sì assolutamente sì te la invieremo e poi come tutti gli altri webinar svolti da metà gennaio fino ad oggi eh sono tutti disponibili sul nostro canale YouTube quindi basta andare su YouTube digitare GB Viaggi e eh puoi potete recuperare tutti i webinar come dicevo all'inizio qualsiasi passaggio eh può sfuggire ovviamente ed è facile in questa maniera recuperarlo quindi ti arriverà e poi è disponibile come sempre anche ehm su YouTube nel caso specifico. Adesso andiamo sul nostro portale per farvi vedere poi diciamo l'area a voi dedicata a quella che vi interessa di più perché quella dove poi sostanzialmente praticamente si lavorerà giusto? Si lavorerà sì prima di entrare nella riservata però vi volevo un attimino eh far notare eh e cliccare se la regia per favore mi aiuta su destinazioni perché su destinazioni qualora voi abbiate dubbi su quello che possa essere il nostro prodotto abbiamo suddiviso anche qui i club i best e i travel in modo tale che voi qualora vogliate approfondire un po' la conoscenza di ogni singolo prodotto cliccando per esempio sul club vi porterà all'interno di un'area del della nostro del nostro sito internet all'interno della quale trovate in maniera molto dettagliata la descrizione di ogni singolo villaggio ok? Quindi se ce n'è bisogno esatto studiate qui il nostro prodotto ma qualora eh vogliate potete comunque contattarci in azienda ai numeri che abbiamo dato poc'anzi. Anche perché le schede descrittive dei vari resort dei vari villaggi sono state ulteriormente puntellate, ulteriormente aggiornate quindi eh anche con una sezione poi lo vedremo al volo di FAQ che sono state create proprio per eh evitare magari code al telefono eh con insomma situazioni che spesso poi si verificano con con i clienti sistema rapido intuitivo facile da usare per avere ulteriori informazioni eh nel nell'immediato. Ora eh parliamo un attimino di area riservate come concludere diciamo come preventivare come eventualmente chiudere e confermare una pratica. Allora chiaramente in alto a destra in area test noi siamo già entrati all'interno della nostra area riservata. Cliccando qui qualora voi non l'abbiate fatto vi comparirà l'area agenzia. Cliccando in area agenzia registratevi invierete il contratto controffirmato e vi abiliteremo le commissioni. Quindi una volta in area test in area test scusatemi in area riservata eh avremo la possibilità di andare a lavorare eh ecco qua area agenzia la nostra legge ci fa vedere quindi si si entra con user e password appena si accede scusate la lentezza ma vedo che oggi la linea è un po' è un po' lenta. Appena si accede chiaramente si entrerai in bacheca quella che è il quartiere generale diciamo dell'area dell'area riservata. Eh in quest'area troverete ora speriamo che riusciamo a visualizzarla. In quest'area troverete chiaramente tutte le informazioni riguardanti la vostra agenzia quindi la vostra anagrafe fiscale eh e troverete i nostri i nostri numeri eh eccola qua. Si caricò. Si caricò. Ce l'abbiamo fatta quindi sul lato destro i vostri dati statistici i nostri numeri di telefono eh importante focalizzare l'attenzione su questo su questa finestra sessantaquattro hotels. In realtà la nostra programmazione come dicevo poc'anzi ha a molte più strutture però all'interno di questa di questo finestra trovate quelli che sono le 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 strutture per le quali possiamo elargire una commissione. Al momento come vedete è tutto caricato al dieci per cento ma per un mero errore di di dati perché come dicevo poc'anzi è scaduta la promozione del quindici per cento di commissione sui nostri club in data trent'aprile per cui quando voi prenoterete fino al quattordici maggio ripeto avete la possibilità di usufruire di questo speciale commissione al quindici per cento eh chiamateci che chiaramente vi adegueremo il l'estratto conto. Eh detto questo sul lato sinistro avete chiaramente il profilo quindi il vostro profilo la vostra anagrafe fiscale l'elenco delle pratiche che abbiamo che avete lavorato che in questo caso abbiamo lavorato noi come fase test quindi c'è tutto il riepilogo perché nel momento in cui voi create un preventivo all'interno di quest'area in automatico il sistema la registra e la e la e la pone la deposita e la salva in questa in quest'area qui. Offerte locandine varie chiaramente ma eh di queste penso che mh ne riceverete copia eh non solo via email ma anche via WhatsApp e sul nostro gruppo Facebook. Qualora non lo abbiate potete scaricare il nostro contratto, timbrarlo, firmarlo, inviarlo al nostro ufficio commerciale e infine l'area soft sales che riguarda più che altro le aziende con le quali hanno con noi eh degli accordi mh particolari di passatemi il termine hanno hanno preacquisito delle camere quindi eh in ogni caso il sistema qualora una struttura non abbia più posto non vi permette di generare il preventivo per cui eh capirete che chiaramente quella struttura è full e piena. Detto questo per me a fare velocemente una una simulazione di preventivo eh prego la regia di indicare qual è qual è la sua settimana di vacanza quella che sceglie quello che vorrebbe eh come vacanza scegliere magari un nostro club eh in modo tale da preventivare il il soggiorno. Vediamo un po' dove vuole andare la nostra regia. Allora le rosette quindi si tratta bene perché parliamo di tropea. eh mi sa che non ha preso il il villaggio è quello qua e voilà quindi dal 24 al 31 due adulti e due bambini ipotizziamo una familiola con due bimbi dai 5 e 10 anni quindi una volta impostati i parametri del vostro cliente cliccando sul tasto cerca la eh il sistema vi porterà all'interno della pagina del villaggio le rosette cliccando poi su scopri i prezzi il sistema sta caricando quella che poi sarà la pagina definitiva quindi come vedete è molto semplice il sistema sta caricando in definitiva il preventivo da eh presentare al vostro cliente. Eccolo qui. E in questo caso come vedete è è una cifra veramente aggressiva. Non a caso abbiamo fatto questo eh questa data perché è una data dove in realtà stranamente perché dal ventiquattro al trentuno luglio mediamente sono date eh molto molto gettonate però stranamente questa data è un po' rimasta indietro nelle vendite come vedete il prezzo in realtà è fuori un prezzo da super early booking perché in realtà pagano solo la quota base gli adulti i bambini sono gratuiti e più tutti i plus i bambini sono gratuiti le quote di iscrizione non ci sono e le tessere club sono immaginate da GB viaggi quindi ci manca che andiamo a prendere i clienti a casa. Sì e li portiamo nel nel villaggio. Quindi il prezzo è volutamente basso per questo motivo per questo motivo qua. Comunque come vedete scorrendo all'interno dell'area trovate le ampie descrizioni di tutto ciò che eh sono i servizi del della eh che la struttura offre e avete menzione di ciò che state acquistando quindi in questo caso sono quattro persone in pensione completa una camera quadrupla eh scendendo giù c'è la possibilità di prendere anche una vista mare eh come dicevo prima c'è la tessera club inclusa ecco qua quindi tutto ciò che comprende la tessera club lo avete in evidenza cliccando sul bottoncino verde scendendo giù vi vorrei porre l'attenzione a parte la gratuità dei due ragazzi ma vorrei porre l'attenzione eh a ciò che si può aggiungere come option diciamo alla vacanza quindi la possibilità di mettere l'ombrellone in prima fila quindi pregherei la regia di flegare questo questa scelta esatto è la possibilità di inserire l'assicurazione ergo e vi consiglio vivamente di inserirla sempre perché in questo caso parliamo di sole trenta euro a camera e parliamo di un'assicurazione che vi copre la medico bagaglio e soprattutto contro l'annullamento quindi in caso di annullamento per causa di forza maggiore è documentabile chiaramente mi verrà rimborsato quasi la totalità dell'importo spesso per cui inseritela sempre in questo caso adesso il sistema ha generato il preventivo eh finito dettagliato per cui eh è arrivato da otto e cinquantotto è salito con i servizi che abbiamo che abbiamo aggiunto inserito è la possibilità di visionare sotto cliccando su questo più esatto di visionare eh quanto spetta all'agenzia come dicevo poc'anzi al momento essendo decadute le promozioni eh il sistema calcola il dieci per cento per tutti ma essendo fuori con le promozioni al quindici per cento questa pratica se la volete confermare basterà inviare l'estratto conto al nostro ufficio commerciale che in automatico fino al quattordici maggio adeguerà al quindici per cento eh di commissione tutto ciò che sono le conferme fino a tal data detto questo come vedete è molto semplice poi andare avanti perché basterà inserire eh tutti i dettagli ovviamente eh dei dei nostri ospiti con l'età dei bambini mi raccomando sull'età dei bambini fate attenzione perché il sistema qualora dovesse riscontrare delle difformità non vi permette di andare avanti e poi alla fine si può pagare la pratica vi ricordo che eh noi confermiamo la pratica solo a ricevimento dell'acconto del trenta per cento come lo potete inviare fondamentalmente in due modi o pagare con carta di credito che è veloce e immediato il sistema fa tutto da sé e non abbiamo problemi oppure con bonifico bancario e esiste anche la famosa rata quello che abbiamo visto all'inizio del nostro webinar la possibilità di pagare il soggiorno con delle comune rate quindi inserendo un piccolo pagamento come a conto di 49 euro il quattro maggio come vedete cliccando su quattro rate il sistema in automatico vi calcola le scadenze delle successive eh mensilità quindi 49 euro per quattro mesi dopodiché ci sarà un saldo eh finale detto questo una volta che voi fate il bonifico lo inviate in in amministrazione e la pratica è confermata è chiusa sì penso sia abbastanza semplice da utilizzare insomma anche perché Matteo questo si è stato creato questo sistema seguendo le indicazioni proprio di voi agenti agenti di viaggio dei vostri dei vostri colleghi quindi speriamo di esserci eh riusciti ovviamente il pagarrate è un'altra soluzione che sta andando forte molto utile anche per il periodo che stiamo che stiamo vivendo e sicuramente eh alleggerisce meglio il portafoglio diciamo sì tra l'altro non è finanziaria perché non è finanziaria non c'è nessuna aggiunta al prezzo che 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 viene che viene indicato a partire da 49 quindi volendo si possono scegliere anche altre soluzioni Luigi oppure no no è fisso 49 euro fisso 49 euro il sistema calcola in base alle rate che sceglie il nostro cliente il nostro agente di viaggio in questo caso il sistema va a calcolare il determinato un determinato numero di rate e chiaramente per differenza il saldo il saldo finale perfetto allora questa è la sezione a voi eh interamente dedicata eh non so se ci sono domande in questo caso siamo qui a vostra eh a vostra disposizione come avete visto il sistema è molto semplice e molto intuitivo non so se vogliamo fare vedere magari abbiamo forse passato un attimo su anche le richieste speciali che abbiamo inserito forse sono riuscite sì a vederle bene quindi richieste speciali che possono riguardare magari ecco situazioni legate alla celiachia eh o anche eventuali altre necessità possono essere indicate eh sempre all'interno di questa sempre all'interno sì sì tutto all'interno eccolo qui eh ecco abbiamo inserito anche l'opzione camera per disabili o appunto se ci sono richieste legate alla celiachia basta in questo caso flaggarle oppure sotto se ci sono ulteriori note da comunicare basterà inserirle e poi provvederemo il prima possibile ovviamente ad esaurirle ad esaurirle sì ehm e niente questo era un'altra cosa che sì ricordavo che avevamo tra virgolette eh saltato così come il discorso della descrizione molto dettagliata eh delle della singola struttura della singola struttura lo avevamo detto così come abbiamo accennato abbiamo accennato anche la possibilità di far eh visionare i clienti delle agenzie e l'ampia slide eh fotografica presente sul sul portale ecco questo presente le rosette quindi cliccando sulle freccette eh si può no illustrare quello che è il prodotto che si sta andando ad acquistare anche perché come si vede benissimo sono tutte foto dall'alto riprese aeree quindi non c'è trucco e non c'è inganno no volutamente è fatto così è stato fatto così proprio per far vedere i nostri clienti come sono posizionate le nostre strutture importantissimo perché vogliamo evitare sorprese chiaramente quanto più possibile la tecnologia ce lo consente quindi cerchiamo di sfruttarla al meglio ovviamente per per i nostri clienti eh finali eh non so se ci sono domande chiedo alla regia se no non ci sono domande allora noi eh non vi vogliamo rubare altro tempo visto che siamo arrivati quasi all'ora di eh di webinar in diretta come detto prima ve lo invieremo altrimenti lo potrete andare a rivedere sul nostro canale youtube per qualsiasi cosa chiamate eh i due angeli custodi di Luigi Raffella e Sara che saranno sempre a vostra completa a disposizione come è avvenuto ovviamente finora grazie Luigi grazie a te Matteo ci siamo dimenticati solo una cosa alla fine del webinar lo sapevo io ci sono quante domande ma basta inserire sì no una cosa se vi siamo piaciuti non vi siamo piaciuti anche perché l'ultimo dell'ultimo webinar quindi dobbiamo come dire eh tirare una linea di bilancio e se siamo andati se siamo stati promossi oppure no in ballo c'è anche più di un caffè rispetto agli altri più che altro scherzi a parte c'è anche la possibilità di darci dei consigli c'è una domanda esatto quindi vi pregherei qualora abbiate dei consigli eh volti chiaramente a migliorare quello che è la nostra azienda siamo no? a completa 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 disposizione insomma sempre aperti a tutto che può migliorare eh la vita a 360 gradi del nostro tour operetto vi lasciamo al vostro lavoro speriamo di iniziare questo viaggio questa missione vacanza eh insieme e quindi speriamo di risentirci presto ciao a tutti ciao buon lavoro ciao ciao